Previsionale e consuntivo 2015 potranno essere inviati al Ministero entro il prossimo 31 maggio ma la nuova scadenza non risolve i problemi di liquidità di Palazzo Zanca perché nel frattempo al Comune non arriveranno comunque i fondi ministeriali necessari a far andare avanti la macchina comunale. Intanto hanno fatto scalpore le dichiarazioni sui social network dell'assessore al bilancio Luca Heller che ha parlato di una città dove si allunga l'ombra della mafia persino il collega di giunta Daniele Ialacqua le ha trovate fuori luogo. Heller ha parlato anche di colletti bianchi però quindi si presuppone che lui abbia notato insomma questi fenomeni mafiosi anche all'interno di istituzioni? Io direi che altro è anche dire che ci sono dei poteri forti in questa città e che è notorio e che ovviamente praticamente questa esperienza nuova governativa della giunta a Corinti del momento in cui abbiamo messo il senato al basso, la fiducia che ci hanno dato i cittadini si scontra con chi pensava di poter continuare a fare i suoi affari in questa città e questo è un verso della discussione. Dall'altro ripeto, dire tutto è mafia vuol dire niente è mafia bisogna avere la consapevolezza di quali sono i fenomeni, sono fenomeni abbastanza complessi e poi se si dovessero avere prove o elementi tali da temere, insomma pressione di questo tipo si va subito alla Procura della Repubblica, non si fanno dichiarazioni sui social network. La considera fuori luogo questa dichiarazione? Personalmente io non l'avrei fatta, io è da anni che opero in questa città ho cofondato con altri il Comitato per l'alto contro la mafia la prima manifestazione antimafia è stata indetta proprio dal comitato di cui facevo parte quindi so bene di cosa si parla in questa città, ripeto non si può generalizzare.